Per la prima volta Andrea Sala mantiene inviolata la sua porta al Massimino, era già accaduto a Picerno e adesso la prima soddisfazione è proprio con il pubblico amico alle spalle. Buonasera a tutti innanzitutto, siamo contenti perché nella prima partita ci sono dato i due obiettivi, la vittoria e il clean sheet che ci ha chiesto il mister. Oggi abbiamo fatto un grandissimo lavoro di offensivo perché non era una partita semplice e devo fare i complimenti ai ragazzi a partire da Sipos, a chi è sommentrato perché comunque è andato massima disponibilità e se il clean sheet è arrivato è soprattutto grazie a loro. Partita lunga, partita sporca, partita strana, sembrava in discesa dopo aver sbloccato proprio il venerdì. Sì, siamo stati bravi con Simone a chiudere quella palla dentro e poi sapevamo che è una partita sporca, poi anche è arrivata la pioggia, il campo un po' molle, quindi dobbiamo portare a casa punti e oggi secondo me non sono tre punti, è qualcosa in più, quindi siamo contenti e penseremo alla prossima. Un intervento davvero decisivo su Sorrentino nel primo tempo. Sì, è l'unica volta che comunque sono venuti a calciare tranne un secondo tempo e sì, mi sono fatto trovare pronto e poteva colpirla anche un pelino meglio lui, quindi sono stato anche tra direttamente fortunato, però meglio così. Sta emergendo Andrea sempre di più comunque la forza, la compattezza di questo che è un gruppo sano. Tu hai già un'esperienza importante e puoi anche fare dei riferimenti rispetto a quello che hai vissuto in carriera. Sì, siamo un gruppo molto sano all'inizio, secondo me abbiamo avuto dei piccoli problemi perché comunque i problemi societari non passano inosservati e poi c'è da gestire 26, 30 test e non è facile, quindi faccio i complimenti ai ragazzi e anche allo staff perché comunque ci alleniamo costantemente con grandissima voglia e abbiamo anche un centro sportivo che comunque ci aiuta a dare il massimo. Sono contento perché siamo tutti dei ragazzi positivi e abbiamo solo un obiettivo, quello di dare il massimo per questa maglia e fare più punti possibili. Si dice di non guardare la classifica, però il Catania stasera entra finalmente in zona playoff e al di là del decimo posto, comunque il dato che salta agli occhi è questa distanza dal secondo, appena quattro punti di differenza, la classifica è ancora molto corta, può succedere di tutto. Sì certo, noi per la nostra situazione secondo me non dobbiamo illuderci, dobbiamo pensare a fare più punti possibili e allontanarci dalla zona calda, quella sotto. Poi dopo abbiamo tutte le qualità per fare più punti possibili perché i ragazzi comunque danno sempre il massimo. Stare là sopra è bello, però ci dare quella spinta in più per andare avanti. I tifosi hanno giocato questa partita insieme a voi, compenetrandosi anche nelle difficoltà del match continuando a dare il massimo in termini vocali, proprio così come voi davate il massimo in campo. Venire a giocare a Catania non è semplice per gli avversari, soprattutto per il dodicesimo uomo in campo che sono i nostri tifosi. Ci danno una grandissima mano perché è un periodo con tante difficoltà e quindi il loro sostegno ci fa sentire importanti. Noi dobbiamo ricambiarlo in campo come stiamo facendo con sudore, con determinazione, con grinta, con professionalità. Questa secondo me è l'unica medicina per ripagare la loro fiducia.